Musica 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 I feroci di Alpine e di Nogara, per i feroci di Chore e di Bern, erano in un concerto internazionale dove si è stato in un teatro Camus, dove, in questa manifestazione, si è stato in grado. I tre feroci hanno chiesto il grado dove si è stato in grado di due settimane urni, dove la musica e il spettacolo. All'inizio ha chiesto il coro di Anna, dove San Maurizio, il maestro Claudio Bernardi, il coro di Zimbar Choral, dove si è stato in grado di Nadia von Polesse, e il coro di Oberschölbach, dove si è stato in grado di Kette Wilde. Il coro di Oberschölbach ha chiesto un po' di musica. Anche credo che il coro di Zimbar Choral ha un po' di concerti, dove si è stato in grado di San Michele all'Adige, dove si è stato in grado di Natale, e dove si è stato in grado di Oberschölbach, dove si è stato in grado di Oberschölbach. dove si è stato in grado di Orsini, dove si è stato in grado di Natale di Marche, dove si è stato in grado di Oberschölbach, dove si è stato in grado di noi, dove se è stato in grado di Oberschölbach, dove loro ho fatto anche che i giorni, dove, dove loro hanno fatto la vita. Dice Giardà fatte, dazz'luzere no, di baiber haom getont alls. Aus paecca, in pagert, no in hobe, in spèm, in holz, in patate, in viro, un all'estn, no in haus, un in kindern, un no, ben das gonz haus ha geschlafft, haom sa geknöpfelt. Z baiber is' gebess, herz, un di arme, vol'l'intervomperne. Drin in Film, z baiber stò, un zar, hundarierige Anna Principe, un zoi sbagare Maria Boncastelè. Barcom girede, von Film, peter filmmaker, Nicole Kosciali. Questo lavoro voleva essere dedicato al racconto dell'esperienza delle donne, di alcune donne, e la scelta è stata anche quella di fare un racconto intergenerazionale che coinvolgesse sia donne più anziane che raccontano anche di un passato che per i più giovani è veramente molto lontano e quasi inimmaginabile e anche poi delle generazioni più giovani che si confrontano con questo passato ma con lo sguardo ancora molto incentrato sul presente. A Luserna abbiamo incontrato Anna e Maria nella cucina di Anna e abbiamo anche fatto una passeggiata nel bosco e con Anna che non aveva ancora cento anni e adesso li ha compiuti e è stata disponibile a fare questa passeggiata nel bosco anzi con grande lena e energia. A Luserna, il film che si tratta di un giorno di 19. April di 5 in tage in Sala Bacher, tutti sono ingeladati. Il 7. April è stato fatto a treffi a parlare di Uzi Civici. E poi è stato fatto, a cui si tratta di un luogo di un luogo che si tratta di un luogo di un luogo di un luogo che si tratta di un luogo di un luogo. «Comeau», «Hörbar». Voran Tage, i film e i pellicole sono stati in place per politica e i bambini. Si è anche gedenkt da lungo e bierta storia, da un'efficienza che si è arrivato, e questo ha parlato di una nuova, bella legge 136, da un 2000. Con questa legge ci sono stati aiutati e aiutati i perni e i bambini, in cui si uscita la loro federa. I suoi federa, come Luciana, Enego, Forza, Gallio, Rozzo, Uro Bonn, avevano le rete a 1310, in cui si uscita la loro federa, in cui si uscita la loro federa, in cui si uscita la loro federa. Buongiorno a tutti. Sono qui in Caslege. Ho chiesto delle persone, in cui si chiedono, in cui si uscita la loro federa. In questo paese, in questo paese, si uscita la loro federa, in cui si uscita la loro federa. In questo paese, in cui si uscita la loro federa, in cui si uscita la loro federa. e ci si uscita la loro federa. In questo paese, in cui si uscita la loro federa, in cui si uscita la loro federa. In questa federa, in cui si uscita la loro federa. si uscita la loro federa. In questa federa, in cui si uscita la loro federa. Questo si uscita la loro federa. di questa opportunità offerta dalla nuova legge, la legge 168-17, per ritornare proprietari e amministratori di quello che una volta era nostro e che in questo momento la gente ancora ha bisogno di riappropriarsi. Grazie. Portiamo cordialmente l'adesione a questo importante momento di riflessione per prendere coscienza, consapevolezza del grande patrimonio non soltanto economico ma anche culturale, sociale che ha sostenuto la vita sul nostro altopiano lungo i secoli. La nuova legge nazionale fatta lo scorso anno purtroppo non chiarisce in maniera inequivocabile come poter trasformare i vecchi colonnelli, i vecchi fuochi che erano utilizzati ad Asiago in maniera da renderlo stabile come modalità di gestione collettiva dei territori. Da tempo come Regione Veneto ci stiamo occupando dal punto di vista legislativo. Ci auguriamo che anche momenti di approfondimento come questo servano a far capire le criticità, magari a poterle superare e per riuscire anche dal punto di vista di tecnica legislativa appunto di dare certezza poi ai futuri gestori appunto di questo territorio. Il giorno dopo il giorno è stato fatto da Zimbar Colonia, ma è stato scritto in questa 26. edizione. Dopo il giorno, il territorio è stato in Cultura dell'Istituto Luzerno a numero 0464 789645, la prossima volta in scrittura dei bambini fino al 1929 anno. e spiegare il giorno. Non so perché la prima volta in attività di 27 avril è zenato in questo giorno. Il giorno è stata scritta per un po' di külturazione, ma sono stati scritti in Cultura dell'Istituto Luzerno. Non so perché la prima volta in裏 c'è un'azienda di diritto, a mezza vuole fare la sua arteria in scorso e a mezza cui si stagliare in freddita. ma non si può inserire. Per questo, noi facciamo una congratulazione nel team Altipiani Calcio a 5 che ha avuto un gruppo di Provinziale CUP in categoria C2. Bravi! Di Bocch Bocchint, ma per essere in un treff Conosciamo il lupo, è stato fatto per Bocch a Slavro. Un po' di sabo risalz e gruazzo di Matteo Castellè. Grazie a tutti!